allora ne è valsa assolutamente la pena questo posto è favoloso ma del resto come tutte le isole del pacifico di cui ho un leggero debole adesso vi riempiremo di video e foto ma solo per farvi vedere quali sono le differenze con quelle che sono magari le isole più vendute come la polinesia francese oppure le isole hawaii quindi faremo anche tantissime attività che vanno anche un po al di là del semplice mare e che mare poi da Rarotonga passeremo ad Aetutaki un'altra isola che fa parte sempre delle Cook e lì ahimè dobbiamo definire quale sia veramente la laguna più bella del mondo perché Aetutaki secondo tantissime riviste o giornali comunque di settore viene definita come appunto la laguna più bella del mondo solo che io un anno fa feci un video dalla polinesia francese da Ranghiroa che anch'essa vanta lo stesso primato vi dirò grazie e gustatevi queste immagini dal pacific resort di Rarotonga la rotonga grazie grazie